Con lo stato d'animo con il quale affrontiamo sempre le nostre trasferte, le nostre esperienze, quindi cercheremo di acquisire ancora ulteriore esperienza da questo concorso che, come avete sentito, è molto importante, a noi fa piacere, e anche portare avanti quelle che potrebbero essere le eccellenze trapanesi, perché a Trapani le eccellenze musicali ci sono, anche se voglio punzecchiare un attimo, ultimamente l'amministrazione non ci ha dato molto spazio per poter crescere, però diciamo che noi teniamo duro e cerchiamo di andare avanti comunque. 8.000 partecipanti a questa Kermess siete rimasti in 25? Sì, siamo rimasti in 25 ad esibirci al jailbreak di Roma, locale storico della capitale, a questa semifinale poi ne passeranno cinque che andranno alla finale che si darà ai primi di dicembre al Piper Club, famosissimo locale anche questo, conosciuto per Patti Bravo. La canzone Si salvi chi può, è una canzone con un forte messaggio di denuncia verso una triste realtà nella quale ci troviamo intercalati, ovvero quella della guerra. Questa canzone è stata composta da Lantillo per quanto riguarda le musiche e un nostro grandissimo amico agrigentino Stanislao Cassaro per quanto riguarda il testo. Grazie a tutti.